Impegno in trasferta a Marineo contro l'Oratorio San Ciro e San Giorgio per la Nissa, che domenica pomeriggio andrà a caccia dei tre punti per continuare il trend positivo dei risultati e inseguire il sogno playoff. La squadra biancoscudata, galvanizzata dal successo di domenica scorsa al Tomaselli contro il Casteldaccia, si presenta al massimo della forma con tutta la squadra a completo, compresi due nuovi sudamericani Modula e Vignone. Gli uomini di Alessio Sferrazza hanno lavorato sodo durante la settimana e vorranno uscire dal campo di Marineo con i tre punti, per poi puntare il big match del 22 gennaio del Tomaselli contro la capolista Acragas. Eccellenza Gironia 17 giornata Castellammare Enna, Parmon Valleleon Fortese, Acragas Mazzara, Casteldaccia Sciacca, Nuova Città di Gela, Cus Palermo, Profavara, Resuttana, San Lorenzo, Oratorio San Ciro e Giorgio, Nissa, Mazzarese, Don Carlo Misilmeri.